Il portiere Giuseppe Stancampiano, dolorante dopo una battaglia in campo, rinnoviamo i complimenti al Città di Anagni perché non è facile per nessuno arrivare al partenio Lombardi, per di più ultimi in classifica ma con grande personalità. Allora un'analisi innanzitutto su questo pari per voi importante e prestigioso. Io penso che comunque la cosa importante era venire qua e mettere in campo la giusta personalità perché ci apprestiamo ad affrontare la categoria per il primo anno. Questa è una società che ha fatto veramente un lavoro straordinario, quattro anni fa è partita dalla prima categoria arrivando quest'anno a poter giocare al partenio, una partita così prestigiosa. Perciò ci tenevamo tutti a dare una grande soddisfazione alla nostra società, ai nostri tifosi. E comunque sono contento perché penso che il punto non è affatto demeritato, anzi per i miei 25 minuti penso che abbiamo avuto veramente quasi il dominio della partita avendo un buon palleggio. Siamo passati in vantaggio e poi ovviamente non puoi pensare di poter tenere la palla in mano per 90 minuti contro un avellino del genere. Però sono contento e voglio veramente fare i complimenti alla mia squadra, al mister e a tutta la società per il lavoro che stiamo sforgendo. Perché come dici tu è vero che avevamo un punto in classifica, adesso due, ma purtroppo causati veramente da finora da poche situazioni favorevoli in campo. Perché come avete visto anche voi penso che è una squadra che se la gioca ha visto aperto con chiunque. La tua esperienza come quella di Lago Marsini per l'Avellino tra i pali, vi ha aggevolato anche un po' l'infortunio di De Vena, uno dei attaccanti più prolifici dell'Avellino al quinto del primo tempo e alla fine però ritenete che siano due punti persi o uno guadagnato. Ho sentito il mister poco fa, l'abbiamo ascoltato e diceva insomma che un pizzico addirittura di rammarico c'è per non aver portato via l'intera posta. Sì perché nel modo in cui l'abbiamo preso eravamo quasi schierati su un contrasto perso, una palla in aria e poi sappiamo la bravura di Sforzini in aria se gli lasci quei due o tre metri per andare a staccare e ovviamente c'è stato un po' di rammarico perché avevamo pregustato un'impresa importante però come ripeto c'è soddisfazione per l'atteggiamento, per la personalità e la qualità appunto che abbiamo messo in campo. Poi io e Ettore l'anno scorso stiamo in un'altra categoria appunto e perciò sicuramente cerchiamo di apportare il nostro contributo alle proprie squadre cercando di dare il massimo. Andiamo pure con le domande da studio Angelo così recuperiamo dalla sola domanda che hai avuto modo di fare al mister. Prego. Va bene Marco, allora buonasera Stancampiano, innanzitutto già nella sua analisi precedente mi sembra ci sia qualche rammarico, qualche rimprovero collettivo per la fase difensiva sul gol subito da Sforzini, secondo lei era evitabile questo pareggio almeno nella situazione in cui si è sviluppato? Buonasera, sì appunto secondo me ci sta perché comunque eravamo un po' in affando perché stavamo subendo un po' gli attacchi dell'Avellino, però in quella situazione appunto messi tutti dietro la linea della palla e su un contrasto dove potevamo fare qualcosa in più abbiamo appunto preso un gol che potevamo appunto evitare dato la prestazione e l'atteggiamento che avevamo avuto per 90 minuti però ribadisco veramente i complimenti a tutti i miei compagni. Può pesare anche per una squadra come l'Avellino Stancampiano questo Tour de Force, tre partite in sette giorni, sette turni infrasettimanali, uno si è già giocato, altri sei vi aspettano, il vostro sarà un campionato di sofferenza, però insomma se ripartite dalla personalità, dall'autorità con cui avete giocato oggi al Partenio soprattutto nel primo tempo, mi sembra che insomma abbiate buone basi per una stagione non dico tranquilla ma per portare a casa l'obiettivo della salvezza? Sì appunto come dice lei ovviamente tutte queste partite, tutti questi infrasettimanali per la causa appunto del campionato cominciato dopo ovviamente mette un po' in difficoltà tutti, io credo che l'Avellino ci abbia una rosa veramente importante, gioca Devena, gioca un altro io penso che conti veramente poco per la qualità di rosa che ci abbia l'Avellino, ovviamente noi facendo tre partite in una settimana e magari potendo cambiare pochi uomini possiamo subire qualcosa di più a livello fisico, però se mettiamo in campo questa personalità e questo carattere come abbiamo fatto oggi appunto abbinato alla qualità io penso che potremmo toglierci delle buone prestazioni delle buone soddisfazioni, ovviamente tenendo bene i piedi per terra perché il nostro cammino sarà sicuramente in salita e toccherà a noi cercare di tirar fuori quante più gioie possibile e spianarlo ecco grazie